Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, QRP. Zulu 4, Victor Quebec Sierra, QRP, Alessandro, Borgo, Vittiti, non so qual è, comunque, provincia di Parma, e da un rapporto reale reale. Mena avanti ancora Alessandro. Allora io ti ringrazio per te 5.9, 5.9 reale, sto provando un nuovo apparato, qui taglia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, QRP, 5 watt alla potenza, a te il cambio. Ok, 5.8 eh, 5.8, 5.8 Alessandro, complimenti, ma è 5.8, 5.8, non ben per sentirsi, e ok, anche ringrazio. Anzi ho detto che tanto non c'è tanto, tanto forno, e mi dici anche che apparato è l'antenna, per favore, Alessandro. affermativo, affermativo, affermativo. Allora l'apparato è un, scusami la pronuncia, Xiong X6100, ripeto, Xiong X-Ray 6100, l'antenna è una Ghiagi, due elementi a 20 metri da terra, del cambio. Affermativo, affermativo, ho detto lo provo subito, lo testo subito, scusami la maleducazione, non ho fatto abbastanza ascolto, mi puoi ripetere il tuo nominativo? Scusa ancora, qui taglia Zulu 4, Victor, Quebec Sierra. Non ti preoccupare, il mio nominativo è Italia X-Ray 1 Hotel Papa Novembre, Italia X-Ray 1 Hotel Papa Novembre, dico anche la provincia di Aosta, e, che volevo dire, complimenti ancora, perché vai bene? Ah ma cazzo, hai una bella, hai una bella, una bella due elementi eh, una bella due elementi eh, complimenti eh. Ah ma sai che, che adesso che mi viene in mente un amico di, un amico di, di, delle parti di Cuneo, l'amico delle parti di Cuneo, mi ha mandato un messaggio, un paio di giorni fa, e mi parlavo di te eh, ma che mi ha detto, che mi ha detto, aspetta eh, diciamo, che mi ha detto, che mi ha detto, che ho fatto il Giappone in QRP interrogativo? No, 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 ma ha detto che, che ti segue su, su, ecco di qua, allora, ok, mi sono iscritto sul canale YouTube, Giappone in QRP, perché ho messo la foto della tua due elementi, e l'ho riconosciuta adesso che ho visto su QRP, e questo amico è Italia Uniform Uno, eh, eh, Delta Quebec Fox, Delta Fox Quebec, e Mario di, delle parti di Cuneo, mi ha detto che si è iscritto al tuo canale YouTube, e che, che, e che, niente, mi ha messo la foto della, della tua due elementi, e che hai fatto prima in Italia nel World Wide, e in QRP 40 metri, prima in Italia, prima in Europa, prima al mondo, l'ospital, complimentoni, eh. Eh, ti ringrazio, ti ringrazio, ma, eh, solo pazienza e, e posteriore, perché, io mi ricordo ancora il primo anno a cui ho partecipato al CQ World Wide, eh, avevo un punteggio di 680, e piano piano, con gli errori si impara. Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, per Italia X-Ray 1, Hotel Papa November. Eh, ok, va bene, ma vai bene, vai bene, perché, eh, l'antenna è tutto, eh, l'antenna è tutto, eh. Eh, io ho fatto, eh, quest'anno ho fatto solo i quaranta metri, e, eh, non in QRP, e neanche concentrante, ero, ero, ero high powered, e, eh, 2019, 2020, eh, ho già fatto tutte le bande, eh. Eh, sempre in high powered, e con l'Overlay, con l'Overlay, con l'Overlay, del solo che ho fatto, primo in Italia, anche Ivan, eh, 2019, 2020, eh, però, eh, eh, non ero, non ero cuore più, eh, non ero cuore più, eh, ecco. Roger, Italia X-Ray 1, Hotel Papa November. No, quest'anno ho dovuto saltare, causa forza maggiore, secondo me mi ha lanciato la vendetta di Montezuma. O montavo la stazione radio in bagno, o se no, non facevo il contest. Allora ho detto, quest'anno saltiamo, ok. Eh, guarda, se non ti dispiace, metto il video del QSO su YouTube. Eh, Dammi Roger, Italia Zulu 4, Victor Kebexierra, per Italia X-Ray 1, Hotel Papa November. Sì, sì, vai tranquillo, vai tranquillo, vai tranquillo, vai tranquillo, mettilo pure. E io purtroppo, sai cos'è che io uso una cuffia microfono con il box e non posso registrare, non posso registrare mentre parlo, perché dovrei staccare il jack mentre registro, perché sennò si vedrebbe solo il monitor della radio e non si sentirebbe niente. se poi il tag o il jack devo togliere anche il box, perché sennò... e poi, che io ricevo, mi mando i tics, però adesso 5-9, ma 5-9 realie, 5-9 realie. E, Alessandro, complimenti, complimenti. Ah, guarda, BQS riprendendo. Mi fa molto piacere, perché io per la zona Italia X-Ray 1 ho veramente pochi collegamenti. Montagne contro montagne, la lotta è impari rispetto a voi. Comunque mi arrivi veramente bene, ottimamente, considerando anche che ho l'antenna una zona non orientata perfettamente per il tuo QTH. Italia Zulu 4, Victor Chevexierra per Italia X-Ray 1, Tel Papa November. Ok, grazie. Ok, grazie. Allora tu sei per me a 127 gradi, per me, che vuol dire che io per te sono a 307, io per te sono a 307 e quindi se passi sopra la mia testa e prosegui poi arrivi verso le parti della Florida, va bene, va bene. complimenti ancora Alessandro e la dimostrazione che l'antenna è tutto. Ti ringrazio, ti auguro una buona giornata e a riascoltarci Italia Zulu 4, Victor Quevexierra in QRP, Italia X-Ray 1, HPN. Ciao Alessandro, grazie. Ciao 73, buon Natale a te famiglia, buona fine dell'anno e speriamo in un ottimo anno nuovo. e mantienti sano, ciao, 73. A 33, a 33, è la PKV, è la PKV, ovvero l'antenna? Affermativo, affermativo. Volevo fare l'upgrade a tre elementi ma il figlio, ero riuscito a contattare il figlio, mi ha dato la brutta notizia della scomparsa del Papa Chilo Whisky. Ah, bannaggia, è l'antaglia 4, vero? No, negativo, zona 2, zona 2 Milano, a te il cambio. Ah, allora faccio confusione, faccio confusione, e... Ah, va bene, ok, e... va bene. Ti ringrazio ancora Alessandro, e a riascoltarci presto, e poi quando finisco qua tra 10 minuti vado se possibile a vedere il video di YouTube che hai messo. Ah, guarda, lo carichi quando, più o meno Alessandro? Ah, guarda, lo carico subito, faccio la preview del test di questo apparato. Ma dalla tua opinione, e da quello che sto vedendo io in questi pochi minuti, mi sa tanto che oltre che provarlo me lo compro. Italia Zulu 4, Victor Cane Xierra per Italia Xray 1, te il Papa November. Ah, guarda, io ti dico, mi seguo, sono cinesi, mi seguo, sono cinesi, ma vanno, vanno molto molto bene, e vanno molto bene. Io, qui ci sono due amici, X1 e ZS, e X1 e GZ, che l'hanno preso, e messo anche vicino altri apparati, e hanno detto che la ricezione... Il G90, che volendo, dà anche 20 Watt, e insomma, il cinese va parecchio bene anche in RX, e va bene in TX l'antenna che hai, l'antenna che hai, è come se metti un dipolo in basso e vai con 100 Watt, e forse è ancora meglio con l'antenna che hai Alessandro. Roger, il problema sarà leggere il manuale, perché sono parecchie pagine, ti giuro che io l'ho acceso e ho schiacciato il PTT, mi sono messo sulla banda dei 40 metri, dato che faccio solo quella, e ho iniziato così. Qui c'è pieno di bottoni, ne so, forse il 5%, cosa significano. Ok, a te il cambio. Sì, buon pomeriggio, buon pomeriggio, volevo dire ad Alessandro, in QRP che arriva anche qua in Sicilia. Roger, il collega della zona 9, se mi dai il nominativo, grazie, scusa. Sì, USM, scusate, qua per l'intervento a Gampadena, è un pezzo che vi ascoltavo qua, Italia, Tango 9, Venezia, Juventus, Saltario. Il T9, Víctor, Giulietto Oscar, il nome è Tullio, come per il nome, Tullio, Solattini, Torino, QDH e Messina. Comunque, Alessandro, lì bene, a parte il QRP, anche l'apparato modula bene, perché la tua modulazione, anche con un segnale basso, è piena. Saluto da un bel due, anche al collega di Oster, di Alex 31, tenuto da Papanenzi, mi pare. Ripeto, qui T9, Víctor, Giulietto Oscar, ancora a te Alessandro. Ah, ok, BQS riprendendomi, scuso con il collega della zona 1, guarda, il tuo rapporto è 5-7-5-8, 5-7-5-8, darei il cambio al collega della zona 1, Italia X-Ray 1, Telpapanovember, prego. Sì, ok, ok, va bene. Grazie ancora Alessandro, in tutto quanto abito al QFXI era in QRP, ok, ti ringrazio. E sono 12 minuti che parliamo e a te Alessandro non ho perso una sola parola, non ho perso una sola parola. Va bene, ho messo a loro bianchi T9, Vittorio Giappone, Euro, Giappone Oscar e Tullio da Messina, 5-9 reali, un punto, è la Meiko SL. E continuerei con le chiamate che sto facendo l'attivazione, se volete vi lascio un attimo che trovate una frequenza, ok, Alessandro? Roger, Roger, ti ringrazio. No, guarda, spengo, vado a prendere il caffè e una grappa, lo so che figurare male, ma mi prendo una grappa e nel mentre carico il video. Ti ringrazio ancora, Italia X-Ray 1, Telpapanovember, Italia Tango 9, Vittor, Yankee Uniform, se non ho copiato male. Dammi Roger. No, no, negativo, è Giulio e Tosca, Giulio e Tosca, Giappone, Otario, T9, Venezia, Juventus, Otario. No, no, me lo so, sono intervenuto per dirti che arrivati anche qua in Sicilia, arrivati bene, nonostante la distanza è in QRB, ma io a minuti vado a pranzo, per cui neanche io mi posso trattenere. Ti saluti anche ai Tarek 3.1, Telpapanesi, ci lasciamo in bene alla frequenza, grazie e se non ci dovessimo sentire, e bello via. Ciao, ciao. Tarek. Ciao, grazie. Ciao, 73, ciao. Ciao, ciao. E ciao anche a te, Toglio, ovviamente. E quella è questa, Italia X-Ray 1, Telpapanovember, calendario della...